Riaperta il traffico via San Michele, mentre domani dalle 9 sarà la volta di via ginnastica. Una buona notizia vista la ripartenza del periodo scolastico il 16 settembre. Completate infatti la posa di 1,3 km di nuove condotte per gas, acqua e energia elettrica che aveva impegnato gli addetti ai lavori in un lavoro in due tranche. A Cegas APS Amga si sta occupando della riasfaltatura e del completamento della segnaletica orizzontale. Quattro mesi dopo l'avvio della fase 2 degli interventi, insomma le due arterie cruciali per il traffico nostrano tornano a far transitare normalmente i veicoli. In particolare i lavori che hanno interessato via San Michele in questi mesi hanno permesso la rimozione di vecchie condotte del gas in ghisa grigia sostituite con 200 metri di nuove tubature in polietilene ad alta densità. Riqualificati anche 200 metri di condotte idriche e 160 di cavidotti elettrici oltre agli 80 già sostituiti l'anno scorso. Interventi che rispondono alla vetustà dei sottoservizi a Trieste. La ghisa in particolare non garantisce la sicurezza dei materiali moderni. Ad oggi sono ancora 35 i chilometri di rette da riqualificare.